Un saluto a tutti, provo a condividere la mia presentazione. Io mi occuperò in questa presentazione di stile di attaccamento, trauma, ansia e alimentazione. Ho volutamente tolto la parola disturbo, ma potrei anche presentare il titolo con disturbo post-traumatico da stress, disturbo d'ansia e comportamento alimentare. Questo perché nella DHD sono presenti sia delle comorbidità, quindi possiamo parlare di disturbi, ma sono presenti anche dei sintomi che non configurano magari un disturbo vero e proprio, ma che comunque condizionano la vita dei pazienti e delle persone affette da DHD. Faccio una premessa rispetto ai disturbi psichiatrici, che poi sarà importante per tutta la presentazione. In particolare, questo vale sia per gli argomenti che tratto, quindi disturbo d'ansia e disturbo del comportamento alimentare, ma vale anche per la DHD. Infatti mi ricollego anche a quanto detto precedentemente dal dottor Oliva rispetto al fatto che non è un disturbo genetico. Ci sono aspetti biologici, ci sono aspetti psicologici e sociofamiliari, per cui il trattamento prevederà un intervento farmacologico, che è fondamentale, ma non è l'unico intervento da fare, quindi un intervento psicoterapeutico e un intervento anche socioreabilitativo. Parlerò appunto di attaccamento, di stile di attaccamento, e poi parlerò anche della DHD e dei disturbi psichiatrici. L'ho messo volutamente in questo ordine, l'attaccamento vedremo che è un bisogno primario, quindi il legame con il caregiver principale condizionerà lo sviluppo poi della DHD, che è un disturbo del neurosviluppo, sono collegate diverse aree, tra cui la corteccia prefrontale, e i disturbi psichiatrici successivamente parlerò appunto di disturbi d'ansia e del comportamento alimentare. In questo ordine perché l'attaccamento può condizionare e può determinare in parte essere una causa dello sviluppo della DHD, e la DHD può essere a sua volta una causa dello sviluppo di alcuni disturbi psichiatrici. Posso però invertire la DHD e l'attaccamento, per cui possiamo vedere come la DHD può determinare anche un attaccamento problematico. Quindi qui ho un po' riassunto lo schema come l'attaccamento a DHD si influenzano vicendevolmente, ma come l'attaccamento, indipendentemente dalla DHD, sia un fattore di rischio appunto per i disturbi psichiatrici. Un attaccamento alterato porterà a una compromissione dei modelli operativi interni, che sostanzialmente sono degli schemi, schemi relazionali, schemi di percezione dell'ambiente esterno e di percezione di se stessi rispetto agli altri. L'ADHD che porterà a un'importante compromissioni nella vita, rispetto al titolo di studio, all'occupazione, in alcuni casi reati, antisocialità, suicidio, incidenti stradali e abuso di sostanze. Infine, i disturbi psichiatrici che appunto possono portare a condizioni mediche, tra cui appunto sindrome metabolica, che poi vedremo che può essere anche in parte correlata alla DHD, e compromissione della qualità di vita. Quindi parlando di ADHD e comorbidità, possiamo far rientrare tutte queste conseguenze. Il DHD non significa solo appunto l'atria desintomatologica caratteristica già vista più volte, con alterazione del funzionamento, e riprendo lo schema già presentato nella presentazione precedente, come la compromissione funzionale sia indipendente dalla permanenza dei criteri diagnostici. ADHD significa anche l'abilità dell'umore, disregolazione emotiva, bassa autostima, bassa tolleranza alle frustrazioni, problemi del sonno, soprattutto di addormentamento, con un sonno spostato in avanti, quindi anche alterazioni comunque della secrezione della malatonina, e un'attività mentale incessante. Rispetto alla comorbidità, vediamo come, tra le molte comorbidità già viste, il disturbo d'ansia e il disturbo del comportamento alimentare sono molto presenti. In particolare il disturbo d'ansia, fino al 50% dei pazienti ADHD può presentare un disturbo d'ansia, e quasi un 10% può presentare un disturbo del comportamento alimentare. Disturbo d'ansia, un breve elenco di disturbo d'ansia da DSM, ma quelli più frequentemente presenti nei soggetti affetti da ADHD sono il disturbo d'ansia sociale e la fobia specifica. Devo dire che comunque anche il disturbo d'ansia generalizzato è molto presente. Sono più comuni i disturbi d'ansia nei sottotipi disattenti, e un po' di conseguenza sono più comuni quindi nel genere femminile. La fobia sociale, che è frequentemente riscontrata nei soggetti affetti da ADHD, può essere intesa come una fobia sociale secondaria, cioè secondaria alle compromissioni sociali che porta con sé la ADHD, quindi vergogna rispetto all'impulsività, soprattutto verbale, o comunque a comportamenti magari inopportuni. Quindi, riassumendo, la ADHD porta a un'insorgenza più precoce del disturbo d'ansia e a una maggior gravità dei sintomi ansiosi. Come dire che chi ha l'ADHD tenderà a avere in generale, questo l'abbiamo già visto nei disturbi precedenti, comorbidità i cui sintomi sono più gravi rispetto ai sintomi presenti nei soggetti non affetti da ADHD. ADHD e disturbo d'ansia presentano delle caratteristiche comuni, per cui, quando ci arriva un paziente per una valutazione a ADHD, dobbiamo essere molto bravi a capire quali sintomi sono dovuti all'ADHD, quale disturbo d'ansia e spesso non è neanche possibile andarlo a determinare, perché coesistono dei sintomi come requetezza interna, agitazione psicomotoria, difficoltà di concentrazione, bassi livelli di attenzione, l'abilità dell'umore, problemi di addormentamento e distraibilità. Quindi è importante un'ADHD differenziale. C'è da dire che comunque nell'ADHD prevale un discorso di testa fra le nuvole, quindi di mind wandering, nel disturbo d'ansia è più presente magari un facile faticamento e un'irritabilità. Per la diagnosi differenziale sarà importante andare comunque a indagare il passato, soprattutto per quanto riguarda l'ADHD dell'adulto, quindi andare a capire un po' la storia, l'esordio, questo sarà fondamentale per capire se questi sintomi qua sono più dovuti all'ADHD oppure a un disturbo d'ansia che si aggiunge all'ADHD. e il disturbo d'ansia spesso è la conseguenza di un'ADHD, perché è un deficit di concentrazione, un deficit che porta a procrastinare e quindi a non essere performante rispetto alle attività, porta inevitabilmente a un aumento dei livelli d'ansia. La terapia farmacologica per il disturbo d'ansia nell'ADHD è spesso fondamentale se si parla di disturbo d'ansia, non se si parla solo di ansia, perché non sempre l'ansia va trattata nei soggetti affetti dell'ADHD. Un disturbo d'ansia che compromette la vita di chi soffre l'ADHD e quindi deve essere comunque trattato a parte. In generale la regola del trattare il disturbo più grave, il disturbo primario, quindi primario nel senso che compromette in quel momento maggiormente la vita del soggetto, è fondamentale. Quindi si andrà prima a trattare il disturbo d'ansia, con un antidepressivo che può essere un SSRI, ma funziona bene anche un SNRI, quindi che banalmente può essere la vellafaxina, che in alcuni studi abbiamo visto che funziona molto bene, e a cui poi si aggiungerà una terapia per l'ADHD dopo circa 4-6 settimane, quindi dopo il periodo di funzionamento dell'antidepressivo. Si può anche pensare di partire subito con l'atomozzetina, in quanto l'atomozzetina in diversi studi è stato visto che può agire anche positivamente sull'ansia, con la premessa però di fare un aumento graduale. Poi parlerò anche dei disturbi del comportamento alimentare, in particolare del binge eating disorder, le cui caratteristiche sono episodi di abbuffate, fino a sentirsi sgradevolmente pieni, anche se non si è affamati, con il conseguente marcato disagio rispetto appunto alle condotte alimentari, che non è però associato a condotte compensatorie. La bulimia presenta tutte queste caratteristiche correlate però a condotte compensatorie. Anche in questo caso ADHD e disturbi alimentari, in particolare appunto vinciti in disorder e bulimia, presentano delle caratteristiche comuni, che sono disregolazione emotiva, impulsività e alterazione del circuito della ricompensa. Questo vuol dire che chi soffre ADHD più frequentemente, rispetto ai soggetti sani, può andare incontro allo sviluppo di questi disturbi del comportamento alimentare. Il circuito della ricompensa vedremo quindi come un maggior ricerca della gratificazione immediata, e quindi un substrato comune. La prevalenza della ADHD in chi soffre del binge eating disorder è del 10%, e la stessa cosa vale per la bulimia nervosa. Molto più basso invece è la prevalenza dei soggetti affetti da ADHD nei soggetti con anoressia, soprattutto però di tipo bulimico e purgativo, perché l'anoressia di tipo restrittivo è poco presente nei soggetti affetti da ADHD. Ovviamente sono più frequenti nel genere femminile, indipendentemente però da una diagnosi di disturbo del comportamento alimentare, uscendo un po' quindi dalla classificazione di SM, possiamo dire che un'alimentazione disregolata, quindi con pasti che vengono saltati, oppure abbuffate, e quindi con un'alimentazione poco salobra, è presente in molti soggetti affetti da ADHD, senza configurare necessariamente un disturbo del comportamento alimentare, come un meccanismo diciamo di compenso allo stress. C'è un'associazione anche con l'obesità, e con la sindrome metabolica, quindi quella sindrome che comprende tutta una serie di parametri del metabolismo come la pressione, il colesterolo, la glicemia, la circonferenza vita, che sono alterati. E poi una caratteristica comune è l'alterazione del ritmo circadiano, che è alterato sia nell'obesità, sia nella ADHD. Pertanto possiamo riassumere che la ADHD porta ad un peso inferiore nei soggetti con anoressia, e un maggior dismorfismo corporeo se paragonati ai soggetti con solo disturbo del comportamento alimentare, quindi senza ADHD. E porta a una più grave sintomatologia bulimica appunto nei soggetti affetti da bulimia. Quindi anche in questo caso vediamo come la ADHD ha gravi disturbi alimentari. È un po' un tratto comune appunto di chi soffre di ADHD tende ad avere comorbidità più grave rispetto a chi non è affetto da ADHD. Altro argomento è l'attaccamento. Lo stile di attaccamento possiamo vedere in questo schema quindi uno stile di attaccamento in età infantile e in età adulta, che è un po' la continuità. Possiamo riassumere come attaccamento sicuro e attaccamento insicuro. Poi nel dettaglio possiamo vedere come ci sia un attaccamento evitante, ambivalente e disorganizzato. che poi hanno un corrispettivo in età adulta. Una breve storia rispetto all'attaccamento che è stato studiato attraverso la strange situation, quindi una situazione un po' di allontanamento della figura materna, del caregiver dal figlio. si è andato a studiare la risposta dei bambini all'allontanamento e la risposta al ritorno della mamma. In base al tipo di risposta del bambino si è potuto classificare in tre tipi l'attaccamento, perché poi l'attaccamento disorganizzato è stato individuato successivamente. Alcuni studi di letteratura ci dicono come un attaccamento in generale, un attaccamento insicuro sia un fattore di rischio per i disturbi psichiatrici, in particolare però quello disorganizzato. L'attaccamento disorganizzato si sviluppa quando la mamma viene vista dal bambino non solo come una figura, un porto sicuro, ma viene vista contemporaneamente come una figura spaventante, disturbante. Quindi il comportamento del bambino può sembrare strano, bizzarro, quindi alterna momenti di avvicinamento con momenti di allontanamento dalla mamma oppure svene a terra o si volta, quindi dei comportamenti che non sono riconducibili a nessun altro tipo di attaccamento. L'attaccamento evitante è associato all'ADHD in termini di iperattività e quello ambivalente in termini di scarsa perseveranza, quindi più un sottotipo inattentivo. Anche qui altri studi che associano l'attaccamento in sicuro e in particolare quello disorganizzato all'ADHD e anche l'adozione che comunque configura un trauma perché a seconda anche e soprattutto dell'età nella quale il bambino viene adottato, più quest'età è maggiore, quindi più l'adozione avviene in tarda età, più si configura un maggior rischio di sviluppare l'ADHD e il trattamento precoce dell'ADHD può prevenire sviluppi di problemi dell'attaccamento. Questo perché un attaccamento sicuro ha un effetto positivo su alcune aree di competenza che abbiamo visto che possono essere deficitare nei bambini affetti dall'ADHD. Inoltre un attaccamento sicuro è associato a migliori prestazioni nelle attività legate all'attenzione perché un attaccamento sicuro significa essere liberi per un soggetto adulto un attaccamento sicuro significa essere liberi dal passato, cioè vivere il presente e significa avere sviluppato tutte quelle competenze cognitive e anche in questo caso attentive che nei soggetti ADHD possono essere deficitarie. Mi collego poi al trauma che quindi la tria di attaccamento e l'ADHD trauma sono molto connesse fra di loro queste tre entità il trauma può essere un fattore di rischio per un attaccamento alterato per lo sviluppo di un problematico di attaccamento ma può essere un fattore di rischio per disturbi psichiatrici in particolare depressione ma anche suicidio disturbo post-traumatico da stress disturbo post-traumatico da stress complesso abuso di sostanze disturbi di personalità l'ADHD può essere un fattore di rischio per esposizioni a traumi ma può essere anche un fattore di rischio per sviluppo di disturbi psichiatrici conseguenti a traumi nel senso che a un trauma possono essere esposte molte persone senza necessariamente sviluppare un disturbo psichiatrico connesso al trauma quindi magari un disturbo post-traumatico da stress chi ha l'ADHD e subisce un trauma non solo appunto più frequentemente può andare incontro a traumi ma può sviluppare un disturbo psichiatrico dovuto all'esperienza del trauma e infine l'attaccamento indipendentemente da un contesto di ADHD da trauma può comunque favorire lo sviluppo di disturbi psichiatrici rispetto ai traumi parlo appunto dei traumi relazionali precoci che sono un concetto un po' più ampio del classico trauma cioè di un evento traumatico singolo traumi relazionali precoci si intende un trauma che si ripercuote spesso nel corso degli anni comprende vittimizzazione nelle relazioni primarie quindi abusi fisici psicologici separazione interruzione dei legami di attaccamento queste due grandi categorie costituiscono appunto i traumi relazionali precoci e l'ADHD porta spesso a queste tipologie di traumi che affetto l'ADHD si trova spesso in una condizione di deficit di relazione sociale quindi di problematiche magari con i coetanei che affetto l'ADHD spesso può venire bullizzato e questo può portare appunto allo sviluppo di questi traumi relazionali precoci che condizionano poi le capacità di autoregolazione ma abbiamo visto che queste stesse capacità di autoregolazione sono connesse anche all'ADHD quindi l'aspetto di disregolazione emotiva e sia una caratteristica intrinseca dell'ADHD ma secondo alcuni autori può anche essere vista come una cosa associata all'ADHD ma non strettamente correlata cioè non strettamente dipendente dall'ADHD più che altro connessa a una problematica di attaccamento o come conseguenza del trauma un cenno rispetto al disturbo post-traumatico da stress complesso che sono appunto traumi ripetuti prolungati in soggetti che sono impossibilitate alla fuga sono appunto traumi relazionali precoci di natura prevalentemente interpersonale i sintomi sono rivivere nel qui e ora l'evento traumatico tramite incubi flashback o immagini intrusive l'ipersensibilità stimoli sensoriali è una caratteristica molto presente nei soggetti che subiscono un trauma che portano poi il soggetto ad evitare una serie di stimoli che possano ricondurre al trauma riattivare il trauma c'è una disregolazione emotiva una disregolazione del sistema vegetativo il vissuto di sensi di colpa di vergogna rispetto all'evento traumatico cosa che rispetta un disturbo post-traumatico da stress semplice insomma è un po' differente nel senso che è molto presente nel disturbo post-traumatico da stress complesso questo vissuto vissuti appunto di dissociazione e compromissioni alcune funzioni mentali come l'attenzione per cui anche in questo caso c'è una sovrapposizione tra sintomi del disturbo post-traumatico da stress complesso e ADHD sono presenti però in questo caso ideazioni suicidari gesti autolesivi che in un ADHD semplice possiamo dire che insomma non sono presenti comune invece l'abuso di sostanze le caratteristiche quindi che si associano più frequentemente però sono problemi di attenzione e disregolazione emotiva l'ADHD porta a maggior rischio quindi di esposizione a traumi relazionali precoci proprio per le conseguenze sociali che l'ADHD ha e porta a un maggior rischio di disturbo post-traumatico da stress dopo esposizione a traumi qui presento uno studio che ho fatto con Francesco Liva abbiamo raccolto dei dati in soggetti affetti da ADHD dell'adulto e abbiamo visto ed è rappresentato in questo schema in questi in questi due schemi come il punteggio della Diva che è un test per valutare che è un'intervista per valutare l'ADHD nei soggetti in età adulta sia correlato a livello di attaccamento ovvero più è grave la condizione di ADHD quindi in età adulta più è grave il livello di attaccamento ovvero più c'è un attaccamento problematico quindi possiamo concludere dicendo che un attaccamento problematico potrebbe portare a un'ADHD più grave in età adulta quindi intervenire sull'attaccamento diventa fondamentale per prevenire o ridurre i sintomi di ADHD poi una breve parentesi rispetto a che cosa significa avere un attaccamento sicuro nel bambino e poi nell'adulto questo per capire dove si può intervenire rispetto all'attaccamento e quindi migliorare anche i sintomi della ADHD un attaccamento sicuro nel bambino vuol dire autostima regolazione soprattutto regolazione emotivo comportamentale quindi prevenire anche tutti quei disturbi positivo provocatorio della condotta che poi possono sfociare un disturbo antisociale concentrazione quindi stare nel momento presente e competenza sociale la competenza sociale è poi quella che quando manca può portare appunto il soggetto affetto da ADHD anche a essere vittima di traumi in particolare con i coetanei nell'adulto l'attaccamento sicuro significa conseguenze nelle relazioni interpersonali quindi avere buone relazioni interpersonali si ripercuote nei processi decisionali nelle capacità comunicative e inoltre a regolari livelli di stress pertanto intervenire qui significa prevenire disturbi psichiatrici in quanto tutti questi punti sono problematici in chi affettano un disturbo psichiatrico infine c'è l'attaccamento sicuro acquisito che è quello che si può sviluppare in un soggetto che appunto non ce l'ha fin dal primo legame di attaccamento ma lo può acquisire in psicoterapia e infine parlerò della trasmissione intergenerazionale dell'attaccamento quindi come l'attaccamento si può trasmettere da una generazione all'altra e come questa trasmissione intergenerazionale dipenda da tre fattori cioè l'attaccamento del bambino dipende dall'attaccamento che il genitore ha avuto nell'infanzia dalla presenza della dhd nel genitore e da disturbi psichiatrici del genitore perché un genitore che avrà la dhd o che avrà un disturbo psichiatrico o che avrà un attaccamento disorganizzato sarà incapace totalmente imparzialmente di far fronte ai bisogni del bambino e quindi in un certo senso trasmetterà un attaccamento che nel peggiore dei casi e purtroppo è quello che capita spesso è un attaccamento disorganizzato che a sua volta predispone a disturbi psichiatrici quindi la capacità del genitore di adottare un attaccamento un atteggiamento riflessivo nei confronti dell'esperienza e una comunicazione non verbale anche perché molto di questo atteggiamento riflessivo viene come dire affrontato attraverso una comunicazione non verbale nella relazione di attaccamento e allora intervenire potenziando le capacità del genitore rispetto alla modalità di relazione col figlio significa prevenire un possibile sviluppo di attaccamento problematico e quindi di ADHD in conclusione e quindi possiamo dire che un intervento precoce sulla ADHD quindi farmacologico innanzitutto e anche psicoterapeutico possa determinare di conseguenza una regolazione sull'attaccamento ma allo stesso modo intervenire sull'attaccamento e quindi sulla famiglia e quindi sui eventuali problemi dei genitori può portare a una maggior regolazione emotiva una maggiore adeguatezza della risposta dei caregiver rispetto a comportamenti che magari possono essere già problematici in pazienti affetti da ADHD grazie